Grazie a tutti. Quindi mi stai dicendo che il sogno di vivere in una casa accogliente, calda e soprattutto ecologica potrebbe avverarsi, però se poi lo compriamo e non siamo soddisfatti? Helios ha la soluzione anche a questo. Offre infatti la garanzia 100 giorni soddisfatti o rimborsati e in più possiamo godere delle interazioni fiscali previste. Ma poi due curi alla capanna? Io scappo da Helios. Helios Tecnologie lo trovi a Flumeri presso la zona industriale. Visita il sito www.heliostecnologie.it o seguici su Facebook e Instagram. Per tutte le info chiamalo 0825 44 3004. Radio CRT. Radio CRT. Radio CRT. Working on a Dream. Radio CRT. Working on a Dream. Apreti il cielo sulla frontiera. CRT. Radio presenta Apreti il cielo. La diretta sul territorio. Grazie a tutti.